Buongiorno a tutti, sono il dottor Capogrosso dell'ospedale di Varese. Oggi ho avuto l'onore di essere ospite qui del dottor Antonini per visionare due casi di impianto di protesi peniena con tecnica infrapubica, una tecnica sicuramente innovativa che rispetto alla tecnica convenzionale per via penoscrotale presenta sicuramente numerosi vantaggi e sicuramente una tecnica molto pulita e con un risultato estetico che sembra veramente eccellente. Siamo molto contenti e speriamo di esportare questa tecnica il più possibile anche in altri centri.